Una cena di lavoro e di piacere dopo una giornata di conferenza sul clima. Barack Obama e François Hollande, i due presidenti di Stati Uniti e Francia, hanno cenato ieri sera con alcuni ministri in un lussuoso ristorante non lontano dal Bataclan, un modo di dimostrare che a Parigi la vita continua dopo gli attentati, ma per il Barack Obama che si lasciava fotografare con la famiglia al fast food, il cambio di scena è notevole. Una quindicina alle vetture del convoglio è giunta quasi a sorpresa. I due chef, Mathieu e Bernard Pacot, hanno saputo solo alla vigilia che lì avrebbero mangiato i presidenti. A Lamboisie, tre stelle Michelin, cena da 350 euro a testa con il flottante porcini, pesce selvatico breton e rosmarino con patate su salsa di crostacei, tartufo d'alba, formaggi e volontà, il tutto accompagnato da qualche buona bottiglia di Bordeaux e Bagnul alla salute dei terroristi e forse anche del clima.